Accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Questi i temi forti del discorso di Papa Francesco e partecipanti al Forum Internazionale Migrazione e Pace, che si svolge presso la Camera dei Deputati a Roma sul tema integrazione e sviluppo dalla reazione all'azione. Il Pontefice ha ricordato che migrare è anelito alla felicità e che i flussi migratori di oggi, frutto di guerre, persecuzioni, cambiamenti climatici, violenze e povertà, costituiscono il più vasto movimento di tutti i tempi. Accogliere vuol dire vedere nell'altro un fratello da aiutare, anche con l'apertura di corridoi umanitari sicuri e fornire spazi adeguati e decorosi. Proteggere questi fratelli e sorelle è un imperativo morale da tradurre adottando strumenti giuridici, internazionali e nazionali, chiari e pertinenti, compiendo scelte politiche, giuste e lunghi miranti. Prediligendo processi costruttivi, forse più lenti, ai ritorni di consenso dell'immediato, attuando programmi tempestivi e umanizzanti nella lotta contro i trafficanti di carne umana, che lucrano sulle senture altrui, coordinando gli sforzi di tutti gli attori tra i quali potete stare certi, ci sarà sempre la Chiesa. Promuovere significa incoraggiare gli sforzi che portano all'attuazione di programmi di cooperazione internazionale. Integrare è il mutuo riconoscimento della ricchezza culturale dell'altro, il rispetto delle leggi del posto in cui si arriva, ma anche evitare il rischio di ghettizzazione, favorendo e di congiungimenti familiari. C'è poi il dovere di giustizia e di civiltà. Giustizia è la condivisione, perché, affermato il Papa, non può un gruppetto di individui controllare le risorse di mezzo mondo e popoli interi aver diritto a raccogliere solo le briciole. Civiltà, perché la fraternità è il modo più civile di rapportarsi con la presenza dell'altro. C'è infine un dovere di solidarietà, ha concluso Francesco, che significa contrastare la cultura dello scarto e abbracciare quella dell'incontro, l'unica capace di costruire un mondo più giusto, fraterno e migliore. Grazie a tutti.